Buongiorno a tutti, buongiorno Stefano. Sascha, buongiorno, buongiorno a tutti. Auguri alle nostre ascoltatrici. Tanti auguri per la festa della donna, sicuramente. E cominciamo con la seconda settimana in Ucraina. Come sta andando? Guarda, siamo al dodicesimo giorno di guerra. Sta andando discretamente bene per gli uni e discretamente male per gli altri. Vediamo subito per chi sta andando bene. Nel senso che l'avanzata russa prosegue. Dopo le prime fasi stanno consolidando i vari fronti. Soprattutto da sud procedono con la riduzione dei fronti. Chiudono in sacche e scerrano su alcune zone per chiudere in sacche altre. gruppi di difensori attorno al Donbass soprattutto. E questo sta facilitando un aumento del territorio sotto controllo russo. Diminuendo allo stesso tempo le perdite dovute alle grandi penetrazioni. Che avevano fatto nelle fasi iniziali. Per conquistare determinati territori che interessavano loro. tipo ad esempio a nord arrivare a tutti i costi vicini a Kiev. Questo aveva provocato delle maglie larghe nelle retrovie. Anche la spinta da Sumi verso Kiev è molto lunga. Probabilmente creava delle sacche. Sì, adesso le hanno ridotte. Queste sacche le hanno contenuto i soldati ucraini in determinate zone che hanno potuto definire. E adesso stanno procedendo alla loro riduzione. Certo, questo è costato del tempo. Ma quanto tempo? Nel senso che siamo, come abbiamo detto, al dodicesimo giorno di guerra in generale. Cioè, questi dodici giorni comprendono anche la campagna aerea per colpire gli obiettivi in Ucraina. Cioè, dopo dodici giorni di campagna, un paese e un esercito come quello ucraino, stiamo riparlando di un paese che è più grosso di Francia e parte della Germania messi assieme, che è grosso, credo, più di due volte l'Italia. Che è stato armato dalle Americhe e dall'Europa. Credo qualcosa come 17.000 tra missili a TGM e antiaerei di vario tipo. Non parliamo delle munizioni che non abbiamo neanche il numero completo, perché deve essere enorme. No, però ogni tanto, soprattutto da sud, trappelano i video di determinati ritrovamenti, tra cui un grosso magazzino integro. E questo ci dice anche una cosa, che la campagna aerea russa non aveva ancora fatto in tempo a colpirlo. Ecco perché sto dicendo che dodici giorni di campagna aerea contemporanea alla campagna di terra hanno scalfitto minimamente la capacità complessiva dell'esercito ucraino. Quando è stato il caso di piegare uno Stato con una campagna aerea, come ad esempio la Serbia, che è una frazione del territorio ucraino, e aveva anche una frazione dei dispositivi in dotazione all'esercito ucraino, ecco che la Nato, tutta intera, usando centinaia di velivoli, aveva impiegato 70 giorni per la campagna. Sì, facendo vittime civili e disastri uno dopo l'altro. Esatto, colpendo ospedali, treni, autobus, carichi di gente, palazzi, persino l'ambasciata cinese, voglio dire, era stato un dramma. Questo è dovuto anche, a proposito dei drammi, a due fattori. Il primo, gli aerei della Nato volavano molto alti. Il volo molto alto impone errori nella individuazione dei bersagli e pertanto la loro eliminazione causava molte vittime civili. Anche perché una bomba sganciata da 30.000 piedi ci mette dei minuti a raggiungere... E la situazione può anche cambiare, come nel caso di quel ponte che si vedeva la scena del treno che arrivava e che veniva colpito mentre era sul ponte, e quindi causando la morte di tutti i passeggeri, come accadde purtroppo. Era il 99, se non sbaglio, o 98, 98 mi sembra. Me lo ricordo bene e mi aveva veramente impressionato pensare a tutte quelle vittime civili. I voli bassi, invece, degli aerei sono estremamente rischiosi per i piloti, ma permettono di individuare con esattezza l'identità e la posizione del bersaglio e di colpirlo evitando di mettere a rischio più civili del necessario. Un rischio per i civili permane sempre. Perché? Perché le forze ucraini, in questo caso, in molti casi, sono asserragliate all'interno di zone urbane. Proprio ieri vedevo alcuni video, provenienti da Kiev, altri da altre città, in cui venivano mostrati da ucraini, perché escono i video principalmente da fonte ucraina, gli altri in occidente vengono probabilmente filtrati da algoritmi e poi teniamo presente che i soldati russi che si trovano sul fronte non hanno a disposizione internet per poter mandare messaggi. Devono usare i cittadini ucraini la rete ucraina e abbiamo visto come per mesi prima dello scoppio della guerra non filtrasse nessun video di mezzi ucraini in movimento. Dubitiamo fortemente che nessuno ne avesse filmati o avesse cercato di postarli su social tipo TikTok, molto popolari in quelle zone, ma se non filtravano e non uscivano era perché gli algoritmi dell'intelligenza artificiale utilizzati per controllare il web da parte delle forze armate occidentali sono efficaci tanto quanto quelle che condannano nei cinesi. Allora che cosa succede? Che le forze armate devono muoversi vicine al terreno, gli aerei in particolar modo, questo gli espone e sanno di essere esposti a un rischio elevatissimo di essere colpiti da qualunque tipo di sistema, anche armi da fianco, al limite, che abbiano a disposizione i soldati. Questo perché volano a poche centinaia, a volte decine di metri, sopra le loro teste. Qualunque tipo di mitragliatrice antiaerea, qualunque tipo di razzo antiaereo, può essere usato e colpirli. In questo caso, se viene usato un razzo antiaereo di tipo Strela o di tipo Stinger, che adesso sono molto popolari tra i soldati ucraini, e tra un po' lo saranno magari vicino ai nostri aeroporti, nelle mani di qualche terrorista, ecco che diventano armi micidiali per un motivo. Il primo è che i sistemi antiaerei temo che non riescano a ingaggiare l'elettronica del missile in tempo sufficiente a deviarlo. Sì, a bassa quota non funziona per un discorso di tempismo. Esatto, perché passano pochissimi secondi, uno, due, tre secondi, cinque secondi, tra il momento del lancio e il momento in cui il missile si trova ormai a ridosso del bersaglio. Il sistema di difesa non l'ho visto attivarsi, neanche con i flare, che dovrebbe essere un sistema di risposta automatico. La sua assenza di funzionamento mi dà appunto da pensare che questo tipo di sistema, quando il tempo di ingaggio è troppo ridotto, non si attivi in tempo utile. Sarebbe opportuno alzare la quota di volo dei caccia, però sanno benissimo che alzando la quota di volo di caccia si rischiano errori nell'individuazione dei bersagli, così come anche nelle possibili vittime civili. I piloti pertanto si espongono a questo maggiore rischio sapendo di dover fare un sacrificio. In questa seconda settimana fondamentalmente abbiamo visto un numero piuttosto alto di vittime tra i piloti. Sì, c'è stato un episodio di un giorno in cui sono caduti diversi caccia russi, tra i quali un SU-30, un SU-34 e un SU-25, tutti nello stesso giorno, più almeno un elicottero. però su un altro elicottero ho dei forti dubbi che quel video, tra l'altro stranamente girato da un drone in volo esattamente inquadrante la zona dove passava l'elicottero, mi è sospetto per alcuni effetti di prospettiva dell'elicottero che cade, che non sembra ridursi di dimensione. Comunque, dovrò esaminarlo meglio. Per quanto riguarda invece gli altri, erano tutti voli a bassa quota e quindi ritorniamo al discorso di prima. C'è stato il caso di un sospetto aereo abbattuto su Kharkov, ad esempio, invece dove la quota di volo era più elevata, ma sono stati lanciati 2-3 missili Buk da quello che si vede e hanno colpito quello che poteva essere o un missile, perché c'è una forte detonazione a un certo punto, o effettivamente un caccia bombardiere russo. Questo tipo di perdite ci stanno nel bilancio perché noi non sappiamo quante siano le missioni in corso rispetto alle perdite che stanno subendo e quindi quanti casi di missioni sono state portate a termine senza perdite da parte russa e quante vittime abbiano causato tra le forze armate ucraine. Il bilancio, quindi, è sempre in questi casi favorevole alla parte russa perché questi aerei probabilmente hanno colpito molti obiettivi prima di essere a loro volta abbattuti o colpiti. Così stesso discorso per gli elicotteri. Non abbiamo le immagini da parte dei danni ucraini, arrivano solo quelle dal fronte sud quando ci arrivano i soldati o i corrispondenti e poi rientrano nelle zone ad esempio di Donetsk o Lugansk e da lì scaricano i video sui server e li postano. Senza contare che molte delle missioni degli elicotteri e degli aerei sono in pieno territorio nemico quindi non solo fanno supporto per le truppe della DNR sono dietro le linee sono dietro le linee quindi sono in zone che sono in totale controllo nemico. Poi ci sono i discorsi delle batterie antiaeree che secondo la scuola russa come abbiamo visto anche in Serbia si accendono e spengono a seconda degli arrivi in corso quindi gli ucraini sono bravissimi ad usare le batterie antiaeree e accenderle soltanto quando c'è un pericolo quindi non farsi ingaggiare dagli aeroplani o dagli elicotteri che sono lì per distruggere proprio queste tracce radar quindi sopravvivere ai loro attacchi e poi abbattere gli aerei successivi che vengono... Sì, oltretutto vale sempre il principio che i mezzi ben nascosti sono difficili da individuare e ripeto in soli 12 giorni di campagna aerea contemporanea alla campagna di terra quindi vuol dire che i mezzi sono impiegati sia a supporto delle truppe a terra poco peraltro sia per la campagna aerea colpire gli obiettivi nelle retrovie hanno scalfito ma in una certa misura ridotta per questioni di tempo la quantità di bersagli che un soggetto come l'esercito ucraino permettono di colpire e questo è importante da comprendere nel senso che 12 giorni sono veramente pochissimi i progressi di terra che stanno facendo significano che la campagna non è rallentata barra non è impantanata come qualcuno sui nostri giornali scrive sperando che ciò che scriva sia veri è la profezia che si autorealizza in poche parole in realtà la campagna sta procedendo e anche speditamente perché il territorio che è già sotto controllo russo non è poco in soli 12 giorni e soprattutto tenendo conto che avviene con un esercito ucraino che era al massimo della sua forza quando è stato invaso e pertanto aveva la piena capacità di rispondere e di bloccare le avanzate cosa che non è riuscita a fare e adesso si trova col problema che avanzando i fronti da parte russa si stanno riducendo stiamo guardando adesso la mappa complessiva Stefano quella sì noi stiamo notando che si stanno venendo a creare più sacche contemporaneamente senza contare quelle che già si sono formate dove ci sono quelle città sediate sì allora questa mappa dà un'indicazione di tendenza più che un'esatta posizione sul terreno però dà una buona idea di come stia andando l'avanzata le frecce che vedete indicano quindi la direzione di espansione non una posizione avanzata delle truppe questo è importante da capire per non creare false aspettative o fraintendimenti la posizione reale è quella delle linee rosse di partenza cioè il confine quello è il massimo avanzamento che c'è sul terreno adesso quindi ci troviamo con un'offensiva a sud che chiude verso Donetsk poi lo vedremo meglio nelle mappe dettagliate dei vari settori a est c'è un movimento di espansione sia verso est che verso nord est perché le truppe russe stanno consolidando una testa di ponte oltre il fiume Dnepr che è importante perché è una barriera da superare il fiume e quindi è importante attestarsi e consolidare un settore per poi procedere oltre onde evitare di rimanere isolati in caso rallentino i passaggi da attraverso il fiume cioè la zona di Kherson e a nord di Kherson vediamo un'altra cosa che non si è realizzata però e cioè i famosi corridoi umanitari sono indicati in verde in queste strisce qui da Sumy da Kharkov i russi avevano chiesto che si creassero dei corridoi umanitari garantiti dagli ucraini anche verso il territorio russo quindi da Mariupol verso Rostov da Kharkov verso Belgorod e da Sumy anche verso Belgorod ecco gli ucraini non hanno consentito a che i civili potessero uscire in direzione delle forze russe gliel'hanno proibito perché per loro sarebbe stato un tradimento da parte dei cittadini perdere perdere più che altro lo scudo umano che li protegge anche è ovviamente una moneta che non si possono permettere di scambiare e noi l'abbiamo visto in questi ultimi giorni in queste ultime ore perché tra tutte le immagini che non possiamo condividere su Telegram o sul nostro sito beh ci sono uccisioni sommarie da parte di predoni da parte di militanti del settore destro e quant'altro che lasciano una scia di cadaveri sul terreno capace di spaventare chiunque da lasciare la città sì perché dobbiamo ricordare una cosa che è stata testimoniata da più da più parti i civili che lasciano il paese sono in minima parte uomini in quanto vengono bloccati alla frontiera e rinviati indietro e perché vengono arruolati tutti hanno l'obbligo di arruolarsi per combattere anche senza addestramento anche senza che abbiano la volontà di farlo quindi non corrisponde al vero il fatto che tutti gli uomini quando arrivano alla frontiera intervistano le donne a tutti viene detto di dire che i loro uomini sono tornati a combattere in realtà è chiaro anche per la testimonianza di alcuni che vengono bloccati perché non possono lasciare il paese per legge per decreto presidenziale c'è la legge marziale in Ucraina e vengono tutti bloccati la cosa ancora più vergognosa che viene in parte taciuta se non totalmente taciuta dai nostri media perché siamo in pieno regime di informazione di guerra anche da noi è che venga impedito agli stranieri non solo di colore ma anche tipo africani ma anche molti indiani tant'è che si è attivata addirittura l'ambasciata di Nuova Delhi proprio per questo fatto perché hanno decine di migliaia di indiani cittadini indiani presenti in Ucraina ai quali viene impedito di lasciare le città assediate o il paese perché laddove cercano di prendere i treni vengono lasciati a terra in quanto la priorità ce l'hanno gli ucraini e loro non sono ucraini e quindi vengono abbandonati a se stessi e dall'altro lato vengono in parte usate come scudi umani come hanno denunciato un gruppo di studenti africani presenti a Kharkov ai quali viene impedito di lasciare il paese sono riusciti a fare un video e a trasmetterlo spero che non li ammazzino per questo cosa di cui sarebbero assolutamente capaci gli ucraini soprattutto quelli dei battaglioni punitivi che oggi sono stati riciclati nell'esercito e non sto parlando per supposizioni purtroppo sono cose che sono state viste osservate 1500 sono gli indiani presenti a Kharkov e allora è stato impedito di lasciare la città non ho dati su quanti siano esattamente in altre città come Sumi o Mariupol però si sospetta che siano molti anche lì il fatto che gli venga impedito di lasciare il paese è veramente qualcosa di scandaloso e soprattutto anche solo di prendere i mezzi i treni da Kharkov ricordiamo che le ferrovie sono attive non sono state bloccate dalle forze russe proprio per permettere ai civili di uscire e il fatto che ad esempio sia stato impedito di costruire dei corridoi umanitari verso i territori russi dai nostri media non è stato spiegato è stato menzionato nel senso che hanno detto che hanno rifiutato di aprire corridoi verso i territori russi perché l'hanno detto come se i russi volessero far aprire corridoi solo verso i loro territori che è una cosa assolutamente inesatta loro hanno detto va data possibilità ai cittadini e tutelati ai civili che vogliono venire verso la zona russa come già 200.000 persone hanno fatto che sono andati in Bielorussia o nella zona russa 150.000 verso la Russia e circa 50.000 verso la Bielorussia perché ne ricordiamo che dal 2014 ad oggi più di 2 milioni di persone si sono spostate dall'Ucraina alla Russia e quindi è probabile che l'abbiano fatto da queste zone e che i civili abbiano nel settore russo i parenti i contatti gli amici o i familiari che devono raggiungere e quindi preferirebbero passare di lì cosa che gli viene impedito perché viene visto come un tradimento e quindi rischiano addirittura di essere passati per le armi dai soldati ucraini o dai miliziani ucraini non sono gli stinchi di santo che la nostra televisione sta continuamente cercando di venderci e a questo punto capiamo anche meglio le censure che venivano fatte contro le denunce delle violenze e dei crimini contro i civili commessi nel Donbass negli anni scorsi perché tutto era finalizzato alla costruzione di un'immagine che non poteva essere scalfitta da sentenze processuali sto facendo anche riferimento a eventuali casi italiani senza dire le cose nello specifico però ricordiamo ad esempio nel caso del processo Markif per l'omicidio di Andy Rocchelli è vero lui è stato assolto perché non hanno trovato prove sufficienti che identificassero esattamente la sua posizione presenza il giorno dell'omicidio sul fronte però allo stesso tempo la sentenza condanna e inchioda le sue responsabilità le autorità ucraine per crimini contro civili e questo è stata una cosa che ha indispettito e non poco le autorità ucraine vediamo adesso bene il perché di questo di questa lunga manovra che è stata fatta in questi anni ed è una cosa che ci intristisce non poco benissimo noi siamo adesso vorrei vedere la mappa del fronte sud se ce l'abbiamo eccola qua ok abbiamo visto come Kherson sia stata un punto di grande difesa di difesa molto forte da parte ucraina perché e fin dal primo giorno che era stata raggiunta già al primo giorno questo perché era appunto una zona strategica da tenere ad ogni costo per evitare il passaggio delle truppe russe al di là in pochi giorni le truppe russe sono riuscite a consolidare la posizione e a passare in forze oltre il passaggio in forze oltre sta avvenendo in maniera graduale Mikolaiv anch'essa raggiunta al primo giorno dalle truppe russe ha visto fin da quel giorno la presenza di forze russe che disputavano alcune zone della città e questo continua ancora oggi le forze ucraine da dietro le linee continuano a far fluire rinforzi in questo settore per cercare di tenere anche quest'altra posizione che ha una barriera fisica cioè un fiume alle spalle quindi una sorta di foce molto lunga che fa da barriera per un eventuale attraversamento da parte russa i russi però si stanno espandendo su tre direzioni verso nord nord-ovest e nord-est allargandosi appunto e consolidando le posizioni alle loro spalle quindi stanno creando un saliente oltre il fiume di Dnepr da rinforzare per creare la base per una offensiva verso Pervomaisk dove c'è in alto a sinistra per capirci dove c'è la centrale nucleare per mettere in sicurezza la centrale anche lì come già hanno fatto a Enerdogar e poi procedere verso Odessa Odessa che è un altro baluardo importantissimo degli ucraini che è difeso da ingenti forze sul campo e che in questi giorni è bersagliato dalla campagna aerea nelle zone dove ci sono le maggiori concentrazioni di truppe ucraine chiaramente proprio per iniziare quel lavoro di ammorbidimento delle difese che non è stato effettuato in via prioritaria in via anzi precedente all'attacco di terra fondamentalmente Odessa era già stato ammorbidito il porto se non ricordo male il porto si è stato ammorbidito nel senso che hanno danneggiato in maniera irreparabile tutti i mezzi navali che erano al suo interno e adesso stanno procedendo con le strutture delle difese quindi cercando di individuare le difese aeree cercando di individuare le artiglierie cercando di colpire i mezzi blindati e corazzati che sono presenti sul posto le capacità navali sono state a tutti gli effetti azzerate giusto? penso per i mezzi maggiori sì se hanno qualche barchetta o gommone forse no moto vedette qualche cosa qualche moto vedetta può darsi che ce l'abbiano ma dal punto di vista dell'operatività e dell'influenza su un eventuale attacco no ci sono però le difese costiere schierate queste sono state già in parte distrutte dei radar soprattutto delle strutture fisse o mobili piazzate come ad esempio devono essere le difese costiere e quelle sì sono state danneggiate o distrutte in gran parte hanno dei sistemi antinave molto sofisticati come quelli russi oppure no? hanno dei sistemi antinave di origine sovietica sì simili se non sbaglio ai bastion però non sono le versioni moderne diciamo esatto per quanto riguarda quindi le operazioni anche a sud stanno procedendo con i tempi perché ricordiamoci che si allungano le catene della logistica e pertanto bisogna accorciarle spostando man mano il materiale in zone sicure quindi è stato fatto questo e stanno facendo questo lavoro nella zona di Melitopol per esempio si stanno concentrando gli arrivi dei materiali che occorrono per sostenere le avanzate verso nord e verso nord nord-est in particolar modo le avanzate più consistenti ci sono nel settore di nord-est ricordiamo che erano bloccati prima di Vasilivka adesso sono già oltre stanno spostandosi sempre più a nord verso Zaporizie ma lo fanno su tutto il fronte e cercando di serrare come vedete nella zona in alto a destra quindi nord-est di serrare verso Donetsk chiudendo in una sacca quelle che sono le difese le truppe che accerchiavano trincerate impostazioni bunkerizzate intorno al Donbass e di prenderle alle spalle e pertanto la loro situazione è precaria abbiamo già visto come in gran parte fossero state indebolite queste difese nelle linee nelle retrovie erano state abbandonate le linee di difesa in favore del rafforzamento dei fronti a est Kharkov e Sumy questo però sta costando una perdita di terreno notevole in questo settore e anche ritrovarsi assediati poi nelle città sì esattamente altro fattore che creerà un vantaggio notevole per le forze russe è la riduzione nella dimensione di questi fronti e cioè chiudere tra il fronte est e il fronte sud andando oltre quello che è il Donbass porterà ad avere un fronte corto meno della metà di quello che c'è oggi e quindi una concentrazione di capacità offensiva più che doppia perché si chiuderanno tre fronti quello del Donbass quello est e quello sud in un unico in un unico che affronterà salendo con il fianco sinistro relativamente sicuro perché protetto dallo stesso ponte dallo stesso fiume per capirci e permettendo loro di avanzare in maniera più spedita chiudendo magari alcune difese di capisaldi di città come Poltava o altre magari in sacche questo tipo di avanzata è molto razionale permette loro di consolidare via via il terreno e di ripulirlo dalle presenze nemiche al suo interno e quindi vediamo che loro già spostano le truppe tranquillamente all'interno nella zona di Melitop le via dicendo che pure sono zone che hanno liberato da poco questo perché il fronte sud è il fronte che si muove con maggiore attenzione con maggior ordine e con metodo decisamente efficace dal punto di vista operativo il comandante del fronte sud sta dimostrando sempre più di essere una persona estremamente capace dal punto di vista della razionalità e nella tattica militare offensiva credo che sia il comandante sul campo in questa fase che più ha dimostrato di saper interpretare il fronte di saper capire le tattiche dell'avversario e di raggiungere gli obiettivi veramente adesso tra l'altro su Mariupol abbiamo se non sbaglio la mappa abbiamo la notizia di stamattina dell'ingresso di forze della DNR in alcune periferie della città ricordo tornando con la memoria al 2014 quando queste zone erano già state oggetto di avanzata e di presenza delle truppe della DNR quando avevano sfondato il fronte delle difese ucraine e avevano nuovamente raggiunto la città di Mariupol che avevano dovuto abbandonare pochi mesi prima a causa dell'arrivo dei battaglioni punitivi ricordiamo anche due cose la prima cosa le barricate che la popolazione aveva retto per fermare le truppe ucraine erano state travolte dai mezzi blindati ucraini che non si fermavano e non rallentavano nonostante la presenza di civili disarmati che cercavano di fermarli con i loro corpi molti sono stati uccisi in questo modo e poi le forze di polizia della città le forze di polizia della città avevano rifiutato di riconoscere le autorità golpiste successive a piazza Maidan se era instaurata la giunta golpista con al suo comando mi sembra Yatsenyuk quella specie di 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 testa d'uovo che sembrava uscito da un film di parodia diciamo di una situazione reale ecco le forze di polizia il comandante del capo della polizia di Mariupol era stato impiccato insieme ad alcuni suoi agenti ufficiali per questo rifiuto di riconoscere le autorità golpiste che si erano instaurate a Chia sì noi abbiamo solo degli scorci di ciò che è successo a Mariupol veramente il problema è che la gran parte dei crimini non verrà neanche a galla verrà a galla probabilmente adesso dopo la liberazione della città perché i testimoni ricorderanno bene quello che è successo e lo ricostruiranno purtroppo non è che ci sarà poi quella giustizia nel senso che la giustizia divina magari sì quella c'è già nel senso che alcune di quelle persone che hanno commesso questi crimini sono già decedute negli scontri che ci sono state nelle scorse giornate ma questo chiaramente non restituirà niente alle persone che hanno perso tutto sì e soprattutto non restituirà la vita a quelli che l'hanno persa però allo stesso tempo avranno modo di avranno modo comunque di poter testimoniare di fare giustizia almeno dal punto di vista legale delle delle situazioni in modo che si sappia la verità su quanto accaduto in quelle in quelle settimane tremende e su quanto è accaduto poi in questi anni di occupazione perché ricordiamo che è stato proibito tutta questa popolazione di usare la loro lingua cioè in russo e quindi quanti soprusi possano aver subito in tutto questo periodo è vero che stanno minando gli edifici a Mariupol guarda c'è 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 stata probabilmente un'esplosione un paio di giorni fa durante un possibile allestimento di un minamento di un edificio minare un edificio significa poter simulare che è stato colpito da bombe o altro e poter dire al suo interno c'erano 500 civili che ne so cose simili come già abbiamo visto in alcuni casi perché alcuni casi di crolli erano molto sospetti anche in caso di bomba sembrava un collasso un collasso proprio dovuto all'aver minato determinate strutture e pilastri perché normalmente in altre città dove ci sono state scene di guerra e bombardamenti tipo Aleppo abbiamo visto gli edifici danneggiati distrutti ma sempre in piedi perché l'ordigno esplode a una certa distanza e non alla base distruggendo le colonne portanti esatto e sono molto sospetti sulla base dell'esperienza che abbiamo avuto nel seguire altri fronti come quello siriano che da un certo punto di vista è più simile a questo tipo di guerra che non altri invece come quello viene alla mente Duma viene alla mente quei posti Aleppo Est Aleppo Ovest che venivano colpite gli uni dalle bombe dall'artiglieria siriana l'altro dalle bombe io parlavo del creare un evento di propaganda l'evento di propaganda Duma è un caso emblematico perché era stato simulato un attacco chimico che poi la stessa commissione della commissione anti per il controllo delle armi chimiche aveva denunciato non essere stato presente un l'utilizzo di arma chimica aveva trovato tracce minime di cloro che non è propriamente un'arma chimica ma è una sostanza che è presente in molti componenti ad esempio degli esplosivi per capirci e quindi le tracce che puoi trovare sono anche magari dovute a residui di prodotti utilizzati per la creazione di di armi convenzionali di esplosivi convenzionali e poi sono stati invece arrivata la denuncia di molti commissari di questa di questa organizzazione che sarebbe dell'ONU che denunciavano che i loro rapporti erano stati alterati e modificati nella sostanza ecco ci ritroviamo a sembrano quasi gli stessi metodi sì qui c'è un problema legato alla creazione di false flag cioè di eventi fasulli per accusare un nemico di atti che non ha commesso e questo per portare l'opinione pubblica a giustificare determinate situazioni come quelle che possono essere oggi le sanzioni occidentali contro la Russia o quelle in passato contro la Siria pur essendo atti estremamente lesivi della salute dei cittadini perché sappiamo benissimo che in Siria le sanzioni uccidono perché colpiscono anche la capacità siriana di approvvigionarsi di medicinali di vaccini nel caso delle malattie e molta gente è anche morta per questo e quindi le sanzioni in realtà sono armi esattamente come le bombe o i fucili perché causano morti tra l'altro l'estromissione dal circuito Swift della Russia non è una cosa nuova come taluni hanno scritto ma diversi altri stati sono stati vittime di questo tipo di ritorsione pesantissima come ad esempio il Venezuela che poi in questi giorni è stata raggiunta dalla diplomazia americana è arrivata l'ambasciatrice statunitense che è tornata nel Venezuela perché era stata ritirata dagli USA ed espulsa dal Venezuela a sua volta perché immagino abbia trovato delle dimmi abbia trovato delle importanti risorse da andare a prospettare sì diciamo che loro cercano di sostituire il petrolio russo dei quali sono avidi importatori gli Stati Uniti che dicano a noi di fare voi bloccate il gas che noi importiamo a miglior prezzo e poi ve lo rivendiamo e poi loro ci rivendono il gas loro magari quello russo liquefatto va bene il petrolio russo è importato negli Stati Uniti gli Stati Uniti lo importavano perché gli costa meno di quello che estraggono loro attraverso lo scisto il sistema di fracking e devono sostituirlo e quindi sono andati a chiedere al Venezuela di perdonarli per aver fatto quello che hanno fatto sembra che gli abbiano detto che se fanno libere elezioni nuovamente ancora sta storia e delle riforme loro sono disposti a comprare il petrolio venezuelano come se gli facessero a favore e loro gli hanno detto benissimo prima togliete tutte le sanzioni riconoscete tutta la nostra diplomazia e presidenza organi istituzionali ci ridate la proprietà e la disponibilità di tutto ciò che avete sequestrato nel vostro paese e poi dopo ne discutiamo e gli americani hanno detto torniamo un attimo a Washington a chiedere sì ecco immagino che la questione stallerà perché non è possibile venirsi incontro così tanto no oltretutto aumentando il circuito dei alternativo allo Swift vediamo che la dipendenza dei sistemi bancari di gran parte del mondo da questo sistema sta diminuendo in Cina ci sono sistemi alternativi come il Cips no o in Russia si sta ora sostituendo il sistema Swift con il se non sbaglio si chiama Mir Mir sì ho sentito anche io esatto sarebbe un sistema di pagamenti elettronici alternativo ai circuiti occidentali insomma se parte poi dei paesi che che fanno parte dell'orbita economica cinese o russa no euroasiatica magari anche l'India dovessero mai adottare questi sistemi dal circuito dei pagamenti verrebbe stromesso lo Swift sì 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 siamo noi alla fine dei conti che ci stromichiamo da soli ecco usandolo come arma ricattatoria stimoliamo una risposta uguale e contraria in questi paesi che volendosi sottrarre dal possibile ricatto ricerchino sistemi alternativi questo porterebbe a un progressivo isolamento economico dell'occidente una chiusura su se stesso e a ogni nuova sanzione che verrebbe emessa ci sarebbe un'azione uguale contraria contro se stessi e quindi alla lunga questo sistema di sanzioni economiche si ritorce contro l'occidente stesso che è sempre più isolato che è sempre più chiuso a mercati che invece scelgono alternative più vantaggiose per loro come ad esempio le materie prime per noi il costo delle materie prime sta aumentando di smisura per i paesi che non hanno adottato sanzioni contro la Russia o altri paesi queste materie prime sono a buon mercato capite bene che la competitività di tutte le nostre aziende è progressivamente sempre più compromessa alla lunga anche nel medio nel breve medio periodo rischiamo di essere totalmente isolati sostanzialmente il vero perdente qua è l'Europa è sostanzialmente si sta rivelando essere l'Europa perché siamo chiusi nel mezzo tra l'obbedienza verso gli Stati Uniti e i mercati le nostre aziende stesse che hanno trasferito le loro attività ad esempio in Russia non sono poche anche quelle italiane ora si sente parlare direttamente il presidente Putin di nazionalizzare le aziende che sono presenti lì di capitale straniero perché ad esempio la Nissan aveva annunciato noi fermeremo la produzione degli stabilimenti in Russia se la Russia nazionalizza tutte queste aziende significa che continueranno a produrre gli stessi mezzi che hanno prodotto senza più neanche pagare l'eroe cioè i diritti alla fabbrica che ne era proprietaria che ha fatto l'investimento Mercedes aveva appena finito di costruire un mega stabilimento gigantesco sì non credo in realtà che la Germania voglia proprio interrompere la produzione di quel mega stabilimento gigantesco nel caso lo facesse avremmo le Mercedes prodotte in Russia e continuerebbero a produrre a produrre F